In una teglia di piadine umiliate che non faranno mai ritorno in Romagna, centriamo un pilone di carne. Tada! Un grattacielo acasciato di formaggio, sulla destra il nostro pomodoro da preghiera e a sinistra un barattolo di gelatina, di fagioli e ossa di topo. Crema pasticcera addensata con pectine e risentimento, un barattolo di budino all'aglio. Busta di tacos in polvere, bustone verde di mais parzialmente scolato, poi super busta di cheddar. Ho elastici fritti, non vedo da lontano. Direttamente dall'Africa parte la dimostrazione di come cammina un gorilla. sangue del pancreas appena esploso, frantumiamo una busta di nachos e chiudiamo con due ufo di farina. Mi vergogno di chiamarle piadine. No, così ci deludi, spalmaci sopra un po' di nutella e oreo, se no è secca. Mettiamo in forno prebestemmiato, tiriamo fuori e tagliamo a quadrotti, osservando la cottura della carne al sangue, lo stesso che ci sta uscendo dagli occhi. Comunque io chiamo la protezione animali, eh? Una mucca non può morire per diventare questa roba.